L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso andrà a processo per omicidio colposo e lesioni il prossimo 20 novembre nel Tribunale dell'Aquila nell'ambito del processo Grandi Rischi Bis. Il GUP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo l'ex capo della protezione civile. Quella discussa in sede di udienza preliminare fa parte di un procedimento satellite che riguarda il filone principale sulla Commissione Grandi Rischi, che ora si trova in Cassazione e che verrà discussa il 19 novembre, ovvero il giorno prima in cui Bertolaso dovrà comparire dinnanzi al Tribunale dell'Aquila come imputato. Bertolaso, ricordiamo, è accusato di essere stato il presunto ispiratore della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Durante la riunione sarebbe stato dato il messaggio rassicurante relativo all'improbabilità di un forte terremoto, evento che poi accadde il 6 aprile, provocando 309 morti e numerosi feriti. La Procura Generale aveva avvocato il procedimento su richiesta delle parti civili. Secondo l'Avvocato Generale Romolo Como e il sostituto Domenico Castellani, l'accusa verso Bertolaso sarebbe consistita nell'intento di contrastare pretesi e allarmismi per la previsione di un grande evento sismico. Nel Merino c'è la telefonata tra l'ex assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati e l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Nella telefonata Bertolaso parlava della convocazione della riunione Grandi Rischi con i massimi esperti di terremoti in Italia, come di un'operazione mediatica per tranquillizzare la popolazione. Con questa impostazione della riunione, secondo l'accusa, Bertolaso aveva indotto in questo modo anche gli scienziati partecipanti alla riunione a indirizzare l'esame della questione sulla primaria necessità di evitare allarmismi tra la popolazione e valutare dunque con superficialità il reale rischio di un grave evento sismico, nonché i rappresentanti politici locali e gli organi di informazione, a rassicurare i cittadini sull'inesistente o bassa probabilità di un forte terremoto. Sempre secondo l'accusa, per effetto di queste condotte, le vittime si erano convinte a restare in casa, superando il timore e abbandonando le precauzioni in vista di un evento più grave dopo le numerose e crescenti scosse di terremoto, rimanendo poi coinvolte nel crollo dei propri edifici.